Lei crede che le divisioni economiche per i diversi interessi economici di alcuni paesi europei non indeboliranno le sanzioni contro Putin? È vero che tutti i paesi hanno una realtà differente. Fino ad oggi sono uniti contro un aggressore sul territorio dell'Ucraina. Queste realtà devono essere discussi, ci stanno avendo delle discussioni, cosa facciamo per esempio per avere la sicurezza dell'alimentazione, perché l'Ucraina è un grande esportatore del cereale, del grano, eccetera, anche ai paesi africani, quasi il 50% viene dall'Ucraina. Per parecchi paesi questo avrà bisogno di un intervento statale, di una regolazione del mercato, dell'importazione del gas o dell'energia da altri paesi terzi. Ma una cosa io sono certa è che su questo dobbiamo fare o prendere le decisioni coraggiosi oggi perché noi siamo in guerra. Allora se noi siamo in guerra dobbiamo anche come leaders democraticamente eletti responsabili ai nostri elettori comunicare le nostre decisioni e anche aiutare per chi soffrirà. Di già avevamo dei grandi problemi economici nelle nostre paesi dopo il Covid, una pandemia che stiamo ancora vivendo, in una pandemia con dell'impatto economico che era grande, ma adesso anche su il cibo, l'alimentazione e il gas dobbiamo anche essere attenti a che i nostri più poveri, più vulnerabili, le donne che di già erano in dubbio sulle loro carriere, il loro lavoro, è una cosa che noi dobbiamo essere attenti e non ho dubbio e queste sono discussioni che tutti i leader dei paesi stanno discutendo ancora.